Donna Felicità Grande festa in occasione dei primi 40 anni di attività di Midor, storica azienda produttrice di detergenti professionali per la pulizia di superfici e per l'igiene della persona. Sabato 10 luglio, nella scalinata Don Minzogna a Fermignano, sarà organizzata una serata dedicata alla musica. L'inizio sarà con la Midor Music Band, la nostra band che ricorre agli anni 60-70, a proseguire poi con Valerio Liboni, dei nuovi angeli, con le nostre serate, le loro serate, la loro musica del tempo, sempre degli anni 60-70. E la chiusura con il nostro grande artista che ha lanciato Romagna mia nel mondo, l'ospite d'onore Gardo Gelli, che presenta la grande novità delle Marche, la canzone sulle Marche che verrà lanciata in tutto il mondo. Quindi è un grande evento e ci aggiungeremo anche il nuovo progetto Le Marche in Fiori, ragione per cui vi aspettiamo tutti per passare una serata in allegria in occasione dei 39esimi, l'inizio del 40esimo anno della Midor Industria Detergenti. L'evento, ad ingresso libero, vede dunque protagonista la grande musica, tra le novità anche la presentazione di un jingle realizzato dal grande Valerio Liboni. Io vengo da gruppi famosi come la Strana Società, i nuovi angeli, Marlon, The Primitives, il mio strumento è la batteria, però negli ultimi anni ho preferito scrivere tre libri e molte canzoni, non solo per me. Per cui vi aspetto, vi aspetto tutti quanti, numerosi, per festeggiare la Midor sabato 10 luglio a Fermignano per passare insieme una serata di festa con tanta musica e con tanto divertimento.